Continuano i contagi nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Dalburni. Nella città di Capaccio Pestum, nuovi contagi a comunicarlo nel report serale e l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Alfieri. Ha raggiunto il numero di 29 persone contagiate, la casa di riposo per anziani in località Laura. Sono risultati infatti positivi al Covid circa una decina di operatori che prestano la propria attività nella RSA e 19 ospiti, due e gli anziani risultati invece negativi al molecolare. Per quanto riguarda i contagi in generale sul territorio si registrano otto guarigioni. Il totale degli attuali positivi nella comunità di Capaccio Pestum si aggiorna a 67 unità con 79 persone in isolamento domiciliare e 318 guariti totali. Un nuovo cittadino positivo anche nella città di Castellabate, comunicazione giunta lo scorso sabato 23 gennaio dal sindaco facente funzioni Luisa Maiuri. Il totale dei cittadini ancora positivi nella città di Castellabate è attualmente di 16 persone. Due contagi anche nel comune di Monte Corice, dove è stata disposta la chiusura di tutti i plessi scolastici siti sul territorio comunale, a decorrere da oggi lunedì 25 gennaio e fino a sabato 30 gennaio. La chiusura, fa sapere il primo cittadino di Monte Corice, Pierpaolo Piccirilli, si è resa necessaria per via del riscontro di due cittadini positivi.